ciao questo è il primo di una lunga serie di video sulla parabola studieremo la parabola nell'ambito della geometria analitica ma anzitutto cerchiamo di capire che cos'è una parabola ci vogliamo fornire una definizione di parabola probabilmente già incontrato questa figura nel tuo percorso scolastico ad esempio la parabola utilizzata per risolvere le disequazioni di secondo grado oppure avrei sentito dire che se lancio un proiettile trascurando gli effetti dell'attrito questo compie una traiettoria parabolica o ancora ritrovi la parabola ad esempio nel profilo delle antenne per le telecomunicazioni ma che cos'è esattamente una parabola perché potresti avere l'idea che qualunque linea che ha una forma che ricorda vagamente una u sia una parabola in realtà non è così per farti un esempio ho disegnato tre figure quella verde e quella nera effettivamente sono delle parabole invece quella rossa sebbene assomiglia a una parabola non lo è non è una parabola per fare un'analogia ti posso parlare ad esempio della circonferenza per riferirmi a una figura che ti è più familiare non è che qualunque curva che assomiglia a una o sia una circonferenza perché la circonferenza è definita come il luogo dei punti equidistanti dal centro e tale distanza detta raggio quindi quella verde effettivamente una circonferenza perché tutti i suoi punti hanno la stessa distanza dal centro invece quella rossa come puoi notare non è una circonferenza perché c'è una un segmento che misura 3,23 mentre l'altro misura 3,25 quindi non c'è un raggio costante per la parabola vale un discorso analogo allora passiamo alla definizione di parabola che è anche slegata dal piano cartesiano è proprio la sua definizione come figura geometrica per definire la parabola necessitiamo di una retta detta direttrice e di un punto detto fuoco questi sono gli elementi necessari per definire la parabola allora diremo che un punto appartiene alla parabola se solo se la sua distanza dal fuoco è uguale alla distanza dalla direttrice ad esempio il punto in blu che ho rappresentato ha una distanza dal fuoco che è uguale alla distanza dalla direttrice cioè questi due segmenti questo qui e questo hanno la stessa misura ricordo che la distanza di un punto da una retta si determina tracciando il segmento perpendicolare alla retta quindi se queste due distanze sono uguali il punto appartiene alla parabola se sono diverse il punto non appartiene a una parabola quanti sono i punti che hanno questa caratteristica sono infiniti ne ho qui tracciati degli altri tutti questi punti hanno la distanza dal fuoco se ne prendo uno a caso questo allora la distanza dal fuoco sarà uguale alla distanza dalla direttrice di punti ce ne sono infiniti se io li unisco tutti ottengo una curva detta appunta appunto parabola ok che caratteristiche ha la parabola allora anzitutto la parabola un asse di simmetria che è una retta passante per il fuoco e perpendicolare alla direttrice questa retta tratteggiata è detta asse di simmetria inoltre la parabola un vertice che è il punto di intersezione tra l'asse di simmetria e la parabola stessa e il vertice divide la parabola in due rami inoltre più il fuoco è lontano dalla direttrice più la parabola sarà aperta avrà una grande apertura se il fuoco è molto vicino alla direttrice nella nostra scala di misura la parabola avrà un'apertura sarà più chiusa diciamo così inoltre la parabola si trova sempre dalla stessa parte del fuoco rispetto alla direttrice quindi se ad esempio il fuoco è sotto la direttrice anche la parabola sarà sarà sotto la direttrice comunque in conclusione la definizione di parabola è così definita la parabola è il luogo geometrico dei punti equidistanti dal fuoco e dalla direttrice bene ora utilizzando questa definizione nel prossimo video ricaveremo l'equazione della parabola sul piano cartesiano grazie a tutti